Rosanna Scopelliti sarà candidata alle prossime politiche? Allora io lo so che è fuori tema, però siamo qui per parlare delle iniziative della Fondazione. Personalmente penso che si possa lavorare per il bene di questa terra in qualunque modo e io l'ho fatto per diversi anni come Presidente della Fondazione e voglio continuare a farlo soprattutto in questo periodo in cui ho scelto proprio di rilanciare l'impegno della Fondazione, ho scelto di aprire una sede importante qui a Reggio Calabria per poter fare in modo che la Fondazione sia un po' patrimonio di questa città che è la città in cui è cresciuto mio padre e che mio padre amava. Quindi insomma io penso che servire la Calabria lo si possa fare in qualunque modo. L'ho fatto per cinque anni come parlamentare con grandi soddisfazioni ma soprattutto con un grande impegno per questa terra. Ho avuto diverse proposte, non lo nego, devo dire che anche se siamo alle battute finali di questo ragionamento io ci sto ancora pensando perché appunto penso che per lavorare in questa terra sia un'esperienza bellissima che si può fare in qualunque modo, quindi sia da parlamentare, si può fare come Presidente di una fondazione, si può fare anche da semplice cittadino. Quindi diciamo che non ho frenesie, ho molta serenità e sicuramente su questo ci tengo a specificarlo, voglia di continuare comunque a mettermi in gioco per questa terra. Devo decidere solamente in quale forma. Grazie.